Buonasera a tutti, presentiamo la soluzione ETT per la garanzia giovani, quindi come prima cosa faccio un excursus breve ma preciso sull'azienda. ETT è partner gold di Microsoft e si occupa di consulenza e sviluppo in diversi ambiti. Il core business fin dall'inizio è stato lo smart government ma soprattutto negli ultimi anni ci si è incentrati molto sulle nuove, sui new media e su tutte le applicazioni con strumenti touch, multi touch. In particolare nell'ambito museale e turistico, quindi abbiamo applicato l'esperienza di consulenza al cliente e di sviluppo software per realizzare soluzioni vincenti in ambito museale, per rendere più accattivante l'esperienza della visita guidata. Altri settori sono la ricerca, in particolare in ambito biomedicale e come dicevo prima core business e lo smart government, quindi la realizzazione di soluzioni innovative per la gestione del mercato del lavoro, in particolare in ambito pubblico, che è una parte di quello che andremo a presentare oggi. Qui possiamo vedere la presenza del territorio dell'azienda, naturalmente in particolare incentrata sul territorio nazionale italiano, ma con una buona presenza anche all'estero, soprattutto per quanto riguarda inevitabilmente la ricerca e l'innovazione. Negli ultimi anni, per fortuna e nonostante il periodo di crisi economica, ETT ha visto una buona e notevole crescita costante con un solo 20% di turnover delle risorse umane. Quello che andiamo a presentare oggi è una delle soluzioni che è stata avviata il primo maggio di quest'anno, quindi il primo maggio 2014 è stata avviata la garanzia giovani, che è una programmazione europea che cerca di tamponare la situazione della crisi economica che ha coinvolto non solo l'Italia ma tutta l'Europa, in particolare concentrandosi su soluzioni orientate ai giovani. È sicuramente un'innovazione molto importante perché coinvolge tutti gli stati membri dell'Europa. In Italia naturalmente ha avuto una sua attuazione e l'obiettivo principale è quello di promuovere iniziative di politica attiva dedicate ai giovani con un target a livello europeo che va tra i 15 e i 24 anni. In Italia abbiamo un'applicazione leggermente diversa che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. A partire quindi dalla programmazione europea, quindi della Youth Guarantee, l'Italia naturalmente si è dovuta adeguare con un quadro normativo e procedurale operativo contestualizzato alle esigenze nazionali. Innanzitutto è stato ampliato il target di riferimento, quindi alla garanzia giovani possono aderire e partecipare i giovani tra i 15 e i 29 anni compresi. Una caratteristica che questi ragazzi devono avere per poter aderire e partecipare e fruire dei servizi della garanzia giovani è la presenza all'interno di una categoria che chiamiamo NIT. Quindi sono soggetti che non devono lavorare, quindi non devono avere un rapporto di lavoro in corso, non devono naturalmente frequentare la scuola né tantomeno un corso di formazione professionale. Sono quindi tutta una serie di soggetti che sono inattivi all'interno del mercato del lavoro, in particolare in Italia e la programmazione europea e contestualizzata all'interno del contesto italiano prevede una serie di nove misure di servizi e di iniziative e di opportunità che possono essere offerte a questa categoria, a questo target individuato. Le misure sono innanzitutto l'accoglienza, la presa in carico e l'orientamento, quindi un primo contatto con questi ragazzi che abbiamo detto hanno come caratteristica principale e l'inattività, quindi la non presenza, la non azione all'interno del mercato del lavoro. A partire da un orientamento, dalla presa in carico si cerca di individuare quali sono le caratteristiche peculiari del singolo giovane e si cerca di definire quale possa essere il percorso più adeguato, che possa essere una mobilità professionale transnazionale e territoriale, quindi l'inserimento in un programma quale può essere anche EURES, che è un programma già attivo e già dedicato ai giovani per la mobilità transnazionale. Il sostegno all'autoimpiego, l'accompagnamento al lavoro, quindi fornire tutta una serie di strumenti che permettono di accedere al mercato del lavoro, al mercato della riqualificazione e qualificazione professionale. Rientra tra le misure della garanzia giovane anche il servizio civile, quindi uscirà un ulteriore bando per il servizio civile a breve, a livello nazionale naturalmente. Altre azioni che possono essere proposte al giovane sono naturalmente una formazione sia mirata all'inserimento lavorativo, quindi come accedere al mercato del lavoro, sia una formazione professionale per ottenere una qualifica. Tirocini, apprendistati di tutti e tre i livelli, quindi un accesso anche diretto ai rapporti di lavoro. Per accedere a questi servizi è stata organizzata una gestione con la dote. La dote è il finanziamento che corrisponde alla misura che viene attivata per il singolo giovane, quindi il giovane è portatore di questa dote. La dote è associata alla singola persona, ma verrà elargita poi anche agli operatori che si attivano all'interno della programmazione della garanzia giovani per fare formazione ai ragazzi, fare orientamento specialistico di primo e di secondo livello, per attivare rapporti di apprendistato oppure tirocini per il servizio civile. Quindi il giovane si porta dietro una dote che però può utilizzare all'interno del percorso che viene individuato insieme ai servizi competenti. Quindi una parte del finanziamento naturalmente è condizionato dal raggiungimento degli obiettivi, quindi lo Stato italiano, il Ministero del Lavoro ha definito delle percentuali di elargezione dei finanziamenti in base al raggiungimento dei vari obiettivi, quindi se ad esempio se il percorso del ragazzo prevede un corso di formazione orientato all'inserimento lavorativo, un 70% del finanziamento viene assegnato per erogare il corso di formazione, un 30% viene completamente legato invece all'attivazione di un rapporto di lavoro successivo al corso. Quindi al raggiungimento dell'obiettivo che è quello dell'ingresso del ragazzo all'interno del mercato del lavoro. Un'altra caratteristica della programmazione è il profiling, quindi dicevamo prima il finanziamento viene legato al giovane e alle sue caratteristiche anche in alcuni casi per alcune delle misure che abbiamo visto prima in base al suo profilo, alle sue caratteristiche appunto. E per questo è stato ideato un servizio informatizzato che permette di inserire tutti i dati delle caratteristiche principali del cittadino. Il sistema restituisce all'operatore incaricato una profilazione, un livello che è stato chiamato di distanza dal mercato del lavoro che può essere molto basso, basso, medio, alto. E a quel punto avendo anche la profilazione del giovane si ha la possibilità di identificare quindi il finanziamento che viene rilasciato poi all'operatore che prende in carico il cittadino. Questo è il flusso che coinvolge cittadini, servizi per il lavoro, enti autorizzati, accreditati per far funzionare questa programmazione sempre all'interno del contesto macro, quindi all'interno di tutta la nazione italiana. Il primo passaggio per attivare l'adesione alla garanzia giovane è appunto l'adesione al programma. Il giovane deve iscriversi, registrarsi al portale nazionale o meglio ancora a uno dei tanti portali regionali che sono stati attivati e appunto inviare la sua adesione alla garanzia giovani. Questa adesione viene inviata, viene ricevuta quindi dai servizi competenti a livello regionale che hanno a disposizione tutti i dati per contattare il giovane e per attivare quindi la programmazione. A partire dal primo contatto fisico tra servizi competenti e i ragazzi coinvolti si definisce un percorso da realizzare con la singola persona, quindi personalizzata sul giovane e si attivano le politiche attive, quindi si iniziano una delle n opportunità che sono messe a disposizione a livello regionale e a livello nazionale grazie al sistema del profiling e della dote. Naturalmente il percorso, prevedendo finanziamenti nazionali e europei, prevede anche una rendicontazione che permette di individuare la chiusura del percorso, quindi la chiusura della garanzia giovane per il singolo ragazzo e il monitoraggio degli esiti della programmazione stessa per quella singola persona. Quindi il primo passo è registrarsi al portale clic lavoro nazionale o a uno dei portali regionali. In particolare a questo punto ci caliamo nel contesto della regione Lazio che ha attivato a partire dal primo maggio quindi in linea con l'attivazione a livello nazionale un portale autonomo che si chiama Lazio Lavoro che permette ai ragazzi e ai giovani tra i 15 e i 29 anni di registrarsi, quindi ricevere delle credenziali di accesso di vedere il proprio profilo e la propria scheda anagrafico professionale e di inviare l'adesione. Inviare l'adesione vuol dire compilare un form online in cui si sceglie il servizio da cui si vuole essere presi in carico. Quindi il sistema della regione Lazio permette anche al ragazzo di individuare dove vuole fisicamente recarsi per le prime attività di presa in carico, accoglianza e orientamento. La compilazione del modulo di adesione fa partire tutta una serie di azioni completamente trasparenti all'utente con una serie di notifiche rispetto all'andamento di queste operazioni informatiche. al cittadino viene notificata l'andata a buon fine dell'invio dell'adesione. Quindi il sistema invia una mail e gli fa vedere all'interno della sua pagina personale di Lazio Lavoro che la richiesta di adesione è arrivata al centro per l'impiego, dà tutte le indicazioni di contatto del centro per l'impiego che è stato scelto dal cittadino e informa anche sulle altre funzioni ad oggi presenti all'interno del sistema. Cosa succede dall'altra parte? Abbiamo detto che il cittadino può scegliere il servizio presso cui recarsi. Di conseguenza il sistema presenta un'interfaccia disponibile proprio per i centri per l'impiego disposti su tutto il territorio della regione Lazio in cui gli operatori dopo aver effettuato l'accesso hanno la possibilità di vedere l'elenco delle adesioni dei ragazzi che hanno scelto quel singolo centro per l'impiego e a questo punto si attiva un percorso di individuazione tra il giovane e gli operatori di individuazione poi delle misure e delle attività che possono essere realizzate. Quindi inizia un percorso che prescinde un po' dalla soluzione informatica che è il primo contatto, quindi chiamare fisicamente il giovane per fare il primo colloquio fare il primo colloquio di orientamento e di presa in carico e soprattutto fare il patto di attivazione in quanto programmazione nazionale si è identificato nel patto di servizio che è una sorta di piccolo contratto tra il cittadino e i servizi per l'impiego sul territorio il primo si è individuato nel patto di servizio il primo elemento per poter poi realizzare tutte le misure che poi saranno rendicontate in garanzia giovani quindi l'operatore come potete vedere ha un elenco di adesioni che sono pervenute tramite il sistema informatico e ha la possibilità di attivare quel percorso per quel singolo giovane vuol dire compilare le informazioni legate al patto di attivazione quindi la durata della presa in carico e alcune annotazioni rispetto al percorso che si andrà a concludere con il ragazzo e inviare e condividere queste informazioni a livello nazionale come fra poco vedremo nel dettaglio abbiamo detto che è una programmazione quindi gli indirizzi sono europei hanno una contestualizzazione a livello nazionale in Italia alcune regioni si sono rese autonome per quanto riguarda gli strumenti informatici da utilizzare tracciare tutto il percorso e tutte le azioni legate alla garanzia giovani ma in ogni caso c'è una continua integrazione a livello informatico tra il livello regionale e il livello nazionale nel momento in cui il giovane viene preso in carico da un servizio per l'impiego che sia pubblico o privato in base all'organizzazione regionale viene inviata una comunicazione a livello nazionale che permette a tutti gli altri servizi di venire a conoscenza che quel ragazzo con quella scheda anagrafico professionale è stato preso in carico da un servizio quindi ha iniziato il suo percorso in garanzia giovani percorso che dovrebbe prevedere l'inizio delle attività che sia un orientamento, una formazione, un ingresso nel mondo del lavoro entro i quattro mesi dal primo colloquio quindi sono state stabilite anche delle tempistiche di massima in modo tale da permettere una reale applicazione delle indicazioni europee prima e nazionali poi successivamente al patto di attivazione abbiamo detto entro quattro mesi si ipotizza l'inizio di un'azione quindi di una politica attiva che può essere tracciata all'interno del sistema informatico della regione Lazio dove è possibile indicare il tipo di attività che il ragazzo sta andando a svolgere la denominazione dell'ente coinvolto, la data di inizio quindi poi la durata di tutta l'azione e la descrizione del programma che si sta attivando della politica attiva che si sta attivando con il ragazzo come il patto di attivazione anche le politiche attive sono collegate strettamente alla scheda anagrafico professionale del giovane vuol dire che si crea una sorta di cartella personale per tutti i ragazzi che aderiscono alla garanzia giovani e a livello nazionale è possibile avere in qualche modo individuare il percorso che ogni singolo ragazzo fa a partire dall'attivazione all'orientamento alla formazione, all'apprendistato o qualsiasi altra misura venga adottata per quel ragazzo L'ultimo passaggio della garanzia giovani è la rendicontazione quindi il monitoraggio degli esiti delle azioni che sono state realizzate insieme al ragazzo in base al monitoraggio degli esiti abbiamo detto dipende anche una parte del finanziamento agli enti la rendicontazione all'interno del sistema nazionale che permette di tracciare quindi e di avere informazioni complessive su come sta andando anche l'erogazione dei fondi destinati alla garanzia giovani e quindi una tracciabilità completa a partire dal livello regionale dove vengono tracciate tutte le informazioni in particolare per la regione Lazio di cui abbiamo accennato fino ad arrivare al livello nazionale abbiamo informazioni sugli enti che sono stati coinvolti e sui giovani che hanno avuto la possibilità di aderire stiamo parlando quindi di una soluzione che parte dal concetto dell'integrazione dei sistemi stiamo parlando della garanzia giovani che è una programmazione europea contestualizzata a livello nazionale dalla legge 76 per cui tutte le soluzioni informatiche che permettono di registrarsi di aderire di registrare e memorizzare le politiche attive che vengono realizzate con i singoli ragazzi il tutto deve prevedere un'integrazione tra i vari sistemi tra il portale regionale Lazio Lavoro per quanto riguarda la regione Lazio come anche per i portali regionali della Campania, delle Marche, della Lombardia di tutte quelle regioni che si sono attivate e si sono rese autonome per quanto riguarda la realizzazione di un sistema informatico per la garanzia giovani l'idea e quindi l'obiettivo è quello di realizzare con l'occasione della garanzia giovani e probabilmente per la prima volta a livello nazionale una sorta di banca dati nazionale delle schede, delle cartelle dei lavoratori complete di tutta la storia formativa e professionale dei cittadini mi sa che sono andata veloce se le persone che sono arrivate un po' dopo hanno delle domande in particolari visto che stiamo parlando di una abbiamo detto di un programma che è diventato legge e quindi ha un'applicazione normativa a livello nazionale ma stiamo parlando anche di sistemi informatici di un di clic lavoro nazionale che è stato presentato nella giornata di ieri all'interno di questo stand che è il portale nazionale di tutti i servizi del mercato del lavoro ma anche di sistemi regionali quindi di amministrazioni regionali che si attivano e realizzano mettono online degli strumenti che permettono da casa di realizzare tutta una serie di servizi per il cittadino in questo caso ma anche per gli operatori dei servizi se volete vi racconto tutta la storia della garanzia giovane a questo punto potrebbe essere un'idea posso quanto c'è ancora dieci minuti cinque minuti allora racconto la storia che è divertente allora riprendo dalla partenza quindi dall'inizio raccontandovi appunto che la garanzia giovani nasce come un'indicazione dell'Unione Europea in particolare per questa è la presentazione aziendale in particolare nasce per combattere o per cercare di tamponare in qualche modo il fenomeno della della disoccupazione soprattutto orientando queste misure al target dei giovani perché in ogni caso la crisi economica ha comportato un aumento in generale della disoccupazione ma in particolare un blocco totale delle attivazioni di rapporti di lavoro per i giovani nella fascia di età di ingresso all'interno del mercato del lavoro inevitabilmente se perdono il lavoro prima di arrivare alla pensione inevitabilmente non c'è lavoro per chi deve iniziare questo tipo di percorso quindi le indicazioni partono a livello europeo dalla comunità europea e ogni nazione se poi cercata di adeguare ha definito le sue linee guida per poter attivare tutta una serie di misure di percorsi per i target e per le specificità del contesto che cosa è successo in Italia in Italia se ne è iniziato a parlare naturalmente l'anno scorso alcune nazioni europee hanno iniziato questa esperienza il primo gennaio 2014 l'Italia ha iniziato il primo maggio 2014 attivando tutta una serie di percorsi e degli strumenti a livello nazionale e a livello regionale sono coinvolti in Italia i giovani tra i 15 e i 29 anni compresi quindi ci si può iscrivere fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno di età e sono coinvolti naturalmente gli operatori di settore che sono i servizi pubblici per l'impiego come sono anche le agenzie private ma autorizzate per l'erogazione di servizi per il lavoro come sono anche gli enti di formazione ma anche le aziende che possono diciamo non tanto sfruttare ma approfittare di questa occasione per attivare ad esempio tutti i tre livelli di apprendistato che magari faticano ad attivarsi a livello sia regionale che nazionale quindi utilizzare utilizzare la dote che il ragazzo che aderisce la garanzia giovani si porta dietro per avere finanziamenti o comunque supportare delle iniziative di ingresso all'interno del mercato del lavoro che in ogni caso prevedono delle attivazioni da parte degli enti accreditati autorizzati questa è la situazione ad oggi in Italia e ogni regione ha avuto poi la possibilità di adeguarsi per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare se ci sono domande se no spengo per quanto riguarda la possibilità la possibilità